Bella a tutti ragazzi, Corgasmic e sono qui a portarvi un nuovo squad builder Mi è stato chiesto nei commenti nello scorso video di portare uno squad builder BSG Quindi Bronze, Silver e Gold E ho voluto utilizzare due giocatori TOTS che volevo assolutamente provare Stiamo parlando di Jackson Martinez, Blue e Cardona, Team of the Season Che volevo appunto provare Quindi direi di partire subito, modulo 4334, classico, uno dei più utilizzati da me in questo canale Insieme al 4411, perché forse sono i migliori del gioco O comunque quelli con cui io mi trovo molto meglio Quindi direi di partire subito con il portiere Anzi impostiamo qui qualità argento, perché il portiere è argento E stiamo parlando di Rimando Che tutto sommato è un buon portiere, ha delle buone statistiche Poi vedete l'altezza, 1,78 è bassissimo Cioè in game è proprio un tappetto E questo fa un po' male, nel senso che delle volte prende dei gol molto stupidi Proprio per via della sua poca altezza E costa comunque anche tantino per essere un portiere così basso Però comunque dalle statistiche è molto buono Ha dei buoni riflessi, buon tuffo, quindi ci sta Poi, qui è oro Ed è, dovrebbe essere nell'altra pagina Sì, Pereira della Nofer La versione della Nofer Perché c'è anche un'altra della Liga BBVA Buono, buon terzino, veloce, buono in difesa, buon fisico, buon work rate Quindi devo dire che è un buon terzino destro senza alcun dubbio Poi, come difensore centrale di destra ho utilizzato l'unico inimitabile Boateng Davvero fortissimo La sua versione upgrade è questa qui se non erro Ed è veramente fortissima perché ha delle statistiche veramente paurose L'ho utilizzato tra l'altro anche nell'ultimo squad builder Perché devo dire che mi piace tantissimo come giocatore Non costa neanche tanto Poi, impostiamo qui bronzo perché andiamo con un altro giocatore classico Cioè Win Un giocatore che ho portato tantissime volte sul mio canale Perché lo reputo fortissimo Comunque volendo si possono sostituire i giocatori bronzo con altri Argento Sempre della Major League Soccer Se proprio non volete utilizzare i giocatori bronzo Mentre come terzino sinistro C'è un altro ottimo giocatore della MLS Cioè Ashi Che è fortissimo perché è molto veloce, molto agile Ha un ottimo dribbling E soprattutto è anche buono in difesa Non intanto in fisico però vabbè ci può stare Poi Andiamo al centro campo Oro Troviamo Schweinsteiger Prima volta che lo utilizzo quest'anno Mi ha fatto una buona impressione per quanto riguarda la fase difensiva E il tiro Un po' meno per quanto riguarda la velocità Perché come vedete è bassina E questo fa un po' fatica Soprattutto visto che gli avversari hanno sempre giocatori super veloci Offensivi Schweinsteiger fa un po' fatica quando deve recuperare Stesso discorso per il suo compagno di reparto Che comunque è argento Non oro Si tratta di Mejia Mejia Non lo so come si pronuncia Anch'esso molto simile a Schweinsteiger Per lo stesso motivo che anche lui non ha una velocità altissima E quindi fanno un po' fatica i due centrocampi centrali Infatti ho preso qualche gol Proprio perché loro hanno coperto poco nei contropiedi degli avversari Però dal punto di vista difensivo sono veramente ottimi Poi come COC non poteva mancare Non è argento ovviamente Il grande Cardona Che è il giocatore che volevo provare Uno dei due che volevo provare assolutamente Non sono le statistiche mie 10-4-4 Bensì in 4 partite che l'ho utilizzata Avrà fatto sicuramente 2 gol E poi non so quanti assist Non mi ricordo Non so perché non considera le mie statistiche Però vabbè Comunque è un buon giocatore Ha un buon destro E anche un buon sinistro Ha anche 4 stelle abilità Ha una buona velocità Un ottimo tiro dalla distanza Veramente spettacolare Non costa neanche tanto per essere un toz Ha un buon passaggio Il problema è il suo workout Normale basso Delle volte non lo trovate neanche in campo In alcuni casi Però quando ha il pallone È veramente fortissimo Poi l'ala destra Subito a vedere Cioè come sapete Jackson Martinez Ragazzi è fortissimo Una macchina da gol Queste ripeto Non sono le mie statistiche A me avrà fatto in 4 partite Almeno 8 gol Quindi 2 gol a partita Almeno E niente Cioè è veramente fortissimo Perché oltre ad avere Un fisico bestiale Un workout perfetto Un'altezza perfetta 4 piedi debole 4 stelle abilità Ha anche un tiro eccezionale Una finalizzazione Paurosa Un ottimo dribbling Ed è anche molto molto veloce E questo è davvero Il top per questo giocatore Che mi ha fatto anche Comunque almeno 3 assist Da quello che mi ricordo Quindi ragazzi Provate Jackson Martinez Perché non ve ne pentirete mai È veramente fortissimo E vale i soldi che spendete E infine Come ala di sinistra Argento Ho utilizzato un altro giocatore Che volevo provare quest'anno Che non ho mai avuto il motivo Di provarlo Cioè Castiglio Che mi è piaciuto molto Perché ha un'agilità E una velocità tale Da essere un mostro Dei contropiedi Cioè quando partite Con lui in contropiede Saltate tutti gli avversari Con una facilità Incredibile Appunto è velocissimo Anche un discreto tiro Non mi sembrava così basso Poi forse con cecchino aumenta Infatti Anche il dribbling è ottimo Anche 4 stelle abilità E un work rate perfetto Per un'ala Quindi Anche esso è un giocatore Che mi è piaciuto tantissimo L'unico suo problema Oltre al fisico Ma quello importa poco È il suo passaggio Che non è dei migliori Però comunque sia Un paio di assist E un paio di gol Me li ha fatti In 4 partite tranquillamente Raga Questa è la squadra Non costa neanche tanto Cioè l'unico Beh oddio Cioè win che costa tanto Più che altro Almeno adesso Non so quanto sta Però comunque I due tots Prendeteli O provateli Perché ne vale Secondo me la pena Come sempre raga Vi invito a lasciare un bel like A 300 mi piace Uscirà una nuova squadra Un nuovo video Fatemi sapere Nei commenti Se vi è piaciuta questa squadra Se volete altre squadre Di questo tipo Se volete che vi porti Altre squadre Con giocatori tots Vi dicevo Nello scorso video Magari una squadra Con De Bruyne Team of the season Che secondo me Merita davvero Di essere provato Fatemelo sapere Nei commenti Iscrivetevi al canale Pagina facebook Twitter Instagram Tutti i link Come sempre li trovate In descrizione Adesso io vi lascio le clip Ci vediamo al prossimo video Bella raga Ciao Ciao